Ciao a tutti! Ciao! Benvenuti in un nuovo video! La Pasqua si avvicina e quindi eccoci qui a fare un bel unboxing del Super Pasqualone Wow! Daniel, tu hai il Super Pasqualone dei Gormiti? Che contiene 5 sorprese! 5 sorprese! E invece tu, Alissa? Quelle lì, il mio regolto! Che contiene 3 sorprese! Ma perché, Alissa, meno sorprese? Perché io ho 3 sorprese perché ho anche lo zainetto! Ah, una delle sorprese è lo zainetto, quindi è una super sorpresa! E invece tu che sorpresa hai? Io trovo sempre un sacco da box! Troppo bello! Beh, io direi di aprirli ragazzi! Sono curiosissima di vedere cosa c'è quest'anno! Vediamo un po' chi riesce intanto per primo ad aprire la scatola! Il bello di questi Super Pasqualoni è soprattutto l'apertura! Perché vi permette di fare degli unboxing! Ci sei riuscita? No! Ci sono riuscito! Dai, ce la puoi fare, Alissa! Ho vinto! Tira! Chi mi aiuta? Aiuta, Alissa, dai! Daniela, Hulk! Eccoli qua! Sono giganteschi! Tra l'altro, guardate che sono anche a tema con i vostri vestiti! Alissa hai pantaloni rosa e tu hai la maglietta bianca e rossa! Siete pronti? Sì! E allora, via lo spacchettamento! Wow, ma questa volta sono tutte impacchettate le sorprese! Quindi non le potete vedere subito, ma dovete aprirla una alla volta! Alissa, uovo! Scusate che ho spento la luce! Cominciate ad aprire le vostre bustine! Uno alla volta, vediamo cosa trovate! Wow! Cosa hai trovato? Invece ho trovato gli sticker dei gormiti! Belli! Dai, c'è ancora spazio sulla tua porta per mettere stickers? Forse! O magari li posso attaccare sui biglietti o... Allora! Aspetta, io però voglio assolutamente vedere questo pupazzetto che ha trovato Alissa! Trappissimo carino! Ok, vai! Seconda bustina! Ok! Io stavolta prendo qualcosa di più pesante... Anche io per gli stickers! Stickers per Alissa! Delle Miracle Tunes! E invece per Daniel? Eccolo qua! Il... Il sacco da box! Voglio poter mettere in tutto l'immagine! Adesso Alissa apre la sua ultima bustina, invece Daniel ne ha ancora qualcuna, vero? Ha trovato quello lì con gli arricchini in plastica! Carinissimo! Troppo bello! Tu cosa hai trovato, Dani? È il diario dei gormiti! Sì, è un diario nel senso che è un quaderno per scrivere! Un block notes! Wow! È anche per disegnare però! Piaciuto? Sì! Ok! Daniel, sono rimaste ancora due bustine però! Eccolo qua! Vediamo un po' quello che ho trovato! Sì! Sì! Interessante! Cosa? È una sacchetta! Così dentro poi ci puoi mettere tutte le cose! Ultima bustina! Cos'è? Un gormito! Wow! Oro! Bellissimo! Wow! Ma è tutto dorato! Sì! Ho pure i muscoli! Guardate qua i miei bellissimi muscoli! Ah, è vero! Anche tu puoi mettere le cose dentro! Perché devo andare in vacanza! Dove vai in vacanza? Vado in montagna! Ah, in montagna! Gira! Sono invisibile! Magira! Sono invisibile! Mamma, guarda! Sono ripetuto un fungo! Tanto non c'entri dentro! Non c'entro! Non ci puoi entrare! Non c'entro! Non puoi entrarci! Pasqualina! Pronti a dire che te le... Mamma, che sono riuscita a fare un uovo! Sì! Ci riuscirò un giorno! Ma dai! Ma io non potevo avere due figli normali, eh! Aiuto! Oh, ma... Oh, ma... No, la mia fase è un uomo! Ecco! C'è il ruolo che sta! Aiuto! Aiuto! Ma dai! Non per un semplice gioco sono proprio l'oltre, ordine! C'è, Daniel il distruttore! Ce l'ho quasi fatto! Eccolo qua! Montato! Provatelo! Sì, ma... Vai, stendilo, stendilo! Stiamo in street, vai! Vai, vai! Pugni! Che so, quelle manine lì! Sì, sono degli schiappi! Niente, si rialza! E si rialza ancora! Ma si rialza ancora! Non vuole arrendersi questo sacco! Ok, via con l'allenamento! Ok! Forza, Daniel parte con un destro! Oh, quello contraattacca! Niente, è imbattibile questo sacco! Niente, però... Il sacco batte, Daniel! Guardate qui sotto! C'è la nota! Anzi, la chiave di violino! Ecco, lì sta! Un bel gancio! Allora, ragazzi, mi sono piaciuti i regali di questi super pasqualoni! Wow! Sì! Ok, mi è sembrato di capire anche a me che vi sono piaciuti! Quindi io vi lascio giocare con il super sacco dei gormiti! Speriamo che il video vi sia piaciuto! Vi mandiamo un salutone e ci vediamo al prossimo video! Ciao! Ciao! Ciao!